Approvata dal Consiglio la modifica dello Statuto prevede l'allargamento a sette membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'istituzione di un sottosegretario della Presidenza della Giunta. Progetto del Corecom per il rilancio degli spazi di comunicazione a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico. Dal 15 al 17 ottobre Accertaldo torna a Boccaccesca, la rassegna per celebrare il gusto e l'arte del buon vivere. Approvata la riforma dello Statuto La proposta di legge di modifica dello Statuto della Regione Toscana e l'emendamento del Presidente della Giunta Eugenio Gianni si sono aperte senza l'illustrazione dell'atto. L'assessore Stefano Scioffo, presente alla seduta, ha scelto di non presentare il testo e il dibattito si è aperto con alcune critiche della minoranza che ha chiesto rispetto per il Consiglio o il rinvio della discussione, vista l'assenza giustificata del Governatore impegnato a Bruxelles. Il Presidente Antonio Mazzeo, che pure si era offerto di leggere il testo della proposta di legge, ha sottolineato che da regolamento la proposta può avvenire anche senza illustrazione. L'Aula ha poi approvato l'atto con 30 voti a favore di PD, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Un voto contrario di Italia vive la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Ai sensi del regolamento interno dell'Assemblea legislativa la proposta di legge di revisione statutaria è stata adottata in prima deliberazione. L'atto tornerà al voto dell'Aula in seconda deliberazione trascorsi due mesi dall'approvazione in prima lettura, così come previsto dall'articolo 123 della Costituzione. Mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo perché provocava un aumento di costi e siccome la strada era un'altra con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni alla maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana e non è chi sarà domani il sottosegretario. A me questo interessa il giusto. A me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta soprattutto sui temi quelli più caldi. Ora penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Lo statuto della Regione Toscana viene ridisegnato e prevede l'allargamento a sette membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'istituzione di un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra il novole dei consiglieri regionali. Sì, ritengo che siamo approdati ad una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta di un nono assessore per poter lavorare di più e meglio. Abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo statuto della Regione Toscana è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto scelto tra i consiglieri quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità e su questo c'è stata un'ampia convergenza come abbiamo visto in consiglio. Per la Lega l'importante era un riassetto interno a costo zero. Ma c'è da dire che il test da come usciva di Giunta è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale è venuto sulle posizioni che noi dicevamo quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza dando la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza costi aggiuntivi e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto. Critico il Vice Presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana dopo 15 modifiche dello Statuto si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un Presidente che poteva nominare otto assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo Statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale. Con i cittadini toscani ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada, ma io confermo la mia contrarietà. In questa prima lettura daremo battaglie da qui alla seconda lettura che sarà fra due mesi e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. Anche Forza Italia ha sostenuto la riforma dello Statuto senza aggravio di costi. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto, nove assessori e due sottosegretari esterni che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello Statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore e sì all'allargamento dell'ufficio di Presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di Presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo come Forza Italia abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto. Per Fratelli d'Italia l'importante era che le modifiche fossero a vantaggio del funzionamento del Consiglio a costo zero. Abbiamo visto una modifica dello Statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il Vice Presidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia abbiamo soltanto un obiettivo che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del Consiglio regionale e l'allargamento dell'ufficio di Presidenza sicuramente va in questa direzione cioè tutela maggiormente il Consiglio due a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito. Fa sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni il Presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7500 euro l'una e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle pensate. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Una moltiplicazione di poltrone che nella visione di qualcuno serve a gestire meglio la regione toscana quando invece questa regione in un momento in cui le infrastrutture sono al collasso le scuole sono in crisi e la sanità è in una fase veramente molto difficile con scioperi continui riteniamo che non abbia bisogno. Per governare bene serve impegno e soprattutto non serve moltiplicare le poltrone per accontentare probabilmente alcune persone che non sono soddisfatte da quelle che sono state le assegnazioni dello scorso anno quando la Giunta è nata. Corecom rilancio dei programmi dell'accesso in Toscana Trasformare i programmi dell'accesso in Toscana rendendo lo spazio a disposizione più dinamico e comunicativo è questo il progetto che il Corecom ha realizzato insieme alla RAI regionale al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze per il rilancio degli spazi a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico e sono già 13 video prodotti in questa prima fase dell'accordo di collaborazione. A spiegare l'iniziativa il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana Enzo Brogi Nel 1975 per la riforma della RAI furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati movimenti pacifisti, religiosi uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee i loro programmi, i loro progetti Con passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante senza nessun appeal e soprattutto non è visto da nessuno Allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire i programmi che le associazioni utilizzeranno per la loro comunicazione per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'Università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico più comunicativo e più performante È un master che ormai ha una storia lunga sono 18 anni questa è la diciottesima edizione io 18 anni fa ho contribuito insieme a dei colleghi alla nascita proprio di questo spazio il master è cambiato moltissimo negli anni la possibilità del master di modificarsi rispetto a un corso di laurea è sicuramente maggiore noi siamo partiti dal presupposto che in Italia ci sono pochi laureati e che quei laureati che riusciamo a produrre hanno difficoltà a trovare nel mondo del lavoro una coerenza con quello che hanno studiato col profilo in uscita questo vale per il triennio ma vale anche per le lauree di secondo livello abbiamo pensato a un master che fosse professionalizzante a un master che oltre a fornire tante conoscenze parlasse di competenze e quindi rendesse questi studenti duttili, versatili e un po' nell'ottica dei liberal studies di fornire tutta una gamma tutta una serie di competenze per renderli poi disponibili a quella che sarà la formazione in azienda la formazione ultima tanto avverrà in azienda e servono comunque oltre alle conoscenze e alle competenze per potersi reinventare tutte le volte per poter rispondere a un mondo sempre più complesso sempre più dinamico a Certaldo è tempo di Boccaccesca sarà un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia a Certaldo dove dal 15 al 17 ottobre si svolgerà Boccaccesca 2021 la segna giunta alla sua 23esima edizione per celebrare il gusto e l'arte del buon vivere si conferma questo evento che promuove le eccellenze enogastronomiche, le eccellenze artigianali le eccellenze che possono fornire i nostri pubblici esercizi un modo per far conoscere a certaldesi che già lo conoscono agli abitanti dei comuni limitrofi e a tutti i cittadini della Toscana un'occasione per provare a continuare nella vita come la conosciamo gustando le nostre eccellenze enogastronomiche i nostri prodotti caseari dove tutta la rete dell'imprenditoria e del settore agroalimentare di Certaldo dà prova della sapienza e della passione che tutti gli anni, da anni ormai mette per commercializzare i propri prodotti quindi ci saranno un settore dedicato come tutti gli anni ai produttori di vino con l'elenoteca sempre nel Borgo Alto varie bancarelle di produttori e venditori anche fuori regione con le loro eccellenze sempre dei prodotti enogastronomici ci sarà il premio Boccaccesca come un riconoscimento classico ormai per questa festa che ha un percorso lungo una storia lunga perché la prima edizione è partita addirittura nel 1999 quindi confermare dopo tanti anni nonostante questi periodi che stiamo vivendo è un grosso risultato la rassegna nasce nel 1999 con lo scopo di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari e artigianali promuovere i presidi slow food e tutta la produzione locale diventando un palcoscenico per i migliori cuochi del panorama nazionale e trampolino di lancio per molti giovani il ricco programma di Boccaccesca evento organizzato dal comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze Claridea 2 e Truria Promozione convolgerà sia il Borgo Basso che il cuore medievale di Certaldo Alto con protagonista ancora una volta lo street food tra mercato, osteria e enoteca dove si potranno degustare le eccellenze toscane che c'è di bella Boccaccesca? sicuramente perché siamo un Certaldo Alto poi ci sono come sempre purtroppo l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare dei grandi cuochi toscani grandi chef che vengono ormai addirittura alcuni sono diventati famosi con Boccaccesca erano giovanissimi tipo Marco Stabile quando è venuto le prime volte era veramente giovanissimo ora vi dimenticate che sono 23 anni e quindi niente c'è stata questa crescita ricordatevi che Boccaccesca è stata la prima manifestazione che ha fatto il cooking show quindi chef particolari che vengono sempre un grande piacere quest'anno gli abbiamo dato un tema ci siamo veramente vogliamo ritornare a cuochi non più chef quindi un tema profumi d'autunno e sapori d'autunno il titolo voglia di vita dà esattamente quello il senso del tempo che stiamo vivendo la voglia di ripartire la voglia di vivere con speranza dopo un tempo difficile ed è bello poterlo fare anche raccontando un grande un grande scrittore narratore che davvero ha segnato non solo la vita di Certaldo ma dell'intera Toscana dell'intero dell'intero paese e quando attraverso la fine il periodo difficile la peste del 300 ci raccontava la voglia di aprire uno spazio di narrazione per fare iniziare con speranza a guardare al futuro ecco io vedo questo paragone questo sillogismo che però ci permette anche di far conoscere i nostri prodotti le nostre tradizioni e insomma è un momento di festa un momento bello un momento di andare a vivere tutti insieme a Certaldo di un momento di far conoscere Grazie.